Eccomi qua ragazzuoli ben ritrovati in questo nuovo video sono Vapor e oggi siamo qui per andare a sbloccare una scatola segreta una scatola nascosta che molti di voi sicuramente non sanno dell'esistenza perché si sblocca andando ad avere la città L'andremo a vedere assieme quindi mi raccomando restate sintonizzati fino alla fine iscrivetevi al canale perché siamo in rod 15k iscritti iscrivetevi perché è importante attivate la campanella lasciate like e soprattutto condividete questo video con i vostri amici perché secondo me può essere molto utile anche a loro Vi lascio qua sotto il link del mio tiktok e del mio profilo instagram per andarmi a seguire in cui social network lì e mi raccomando se vuoi abbonarti al canale lo puoi fare con 99 centesimi qua oppure gratuitamente se hai amazon prime attraverso il link che ti lascio qua sotto in descrizione per collegare amazon prime a twitch e aver l'abbonamento sul mio canale twitch Spostiamoci subito su heyday perché abbiamo un po' di cose da vedere ruota da girare io ragazzi ho giocato un po' di meno in questo periodo dei day sto avendo dei problemi diciamo che ho dovuto sistemare alcune cose della mia vita private quindi ho avuto un po' di meno tempo Adesso sto tornando quindi tranquilli ragazzi che torneremo più forti di prima poi ci sono state vacanze di mezzo diciamo che mi sono preso un po' di pausa anch'io Andiamo a prendere un po' la bancarella qua perché siamo pieni di cose da prendere abbiamo il ticket qua rosa da andare a sbloccare quindi subito adds il ticchettino molto molto bene Adesso andrei a fare di qua abbiamo i maiali del VAP che sono belli belli caldi infatti non so se lo sapete ma siamo arrivati quinti nel derby di nuovo non siamo riusciti a superare la nostra lega Rimaniamo comunque nella nostra umile come si chiama nella nostra umile lega professionisti che secondo me va più che bene Fatemi sapere qua sotto nei commenti quanto sta il vostro il vostro clan che sono abbastanza diciamo curioso di sapere come sta andando invece i vostri derby Qua siamo sempre a livello 40 andiamo qua subito a far micchiare tutte le nostre le nostre colture che sono belle belle calde Andiamo a mettere un po' di mele subito in vendita perché se no se non metti alle mele in vendita è un grosso problema Quindi subito delle grandi mele in vendita ole 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 fragoline anche che non fanno mai male neanche loro Vi faccio vi faccio scoprire questa cosa qua perché è molto particolare come ho scoperto di questa scatola misteriosa perché è veramente assurdo il tutto Avevo una missione da fare del pass ok sapete che ci sono le missioni da fare io ho sbloccato il pass quindi di conseguenza ho alcune missioni che devo andare a fare non so se voi lo sapevate Fatto sta che comunque andando a sbloccare nel pass mi sono accorto che avevo questa missione che mi diceva di alcuni di alcune scatole misteriose Sblocca una scatola misteriosa allora al che io non sapendo minimamente come funzionasse il tutto sono andato un po' a chiedere in giro come si come funziona qual E mi hanno detto guarda che hai la possibilità di avere una scatola segreta che si può sbloccare ogni giorno quindi coloro che hanno la città che vi ricordo si sblocca a livello 35 Avete una scatola segreta che vi dà delle ricompense anche neanche troppo malaccio e quindi se qualcuno di voi non l'ha ancora non sapeva dell'esistenza di questa scatola segreta Bene adesso lo sapete quindi andatela a sfruttare perché questa scatola segreta è tanta tanta roba Come si fa a prevenere dove si trova e tutte queste cose qua sono domande più che lecite naturalmente Ve lo spiego subito allora innanzitutto qua utilizziamo la tecnica del raccoglimento veloce Trovate la tecnica qua in alto nelle schede cliccabili quindi se te la sei persa valla assolutamente a recuperare perché risulta essere molto molto utile E molti mi stanno ringraziando di questa tecnica che vi ho fatto vedere quindi dato che ci sono molte persone che state contente Spero che anche voi possiate essere contenti quindi andatela a recuperare assolutamente Terminiamo un attimo qua il nostro deforestamento perché è abbastanza importante il deforestamento che c'è da fare Buono così qua ci hanno aiutato un po' di personcine quindi si risgrallano un po' i nostri alberelli Andiamo nella città ad esplorare questo mondo Ieri ho caricato anche un video riguardo al rifugio misterioso molto molto bello andatela a recuperare Eccola qua la scatola misteriosa è in realtà più semplice del previsto Vi faccio vedere qual è il problema Semplicemente che voi entrate e vedete la città in questa situazione qua Quindi dovete fare un po' di zoom all'indietro e anche con lo zoom all'indietro la scatola non è probabilmente visibile Dove si trova? Quindi si trova all'interno del mare Quindi basterà semplicemente scendere un po' in giù E troverete proprio all'interno del mare oltre ad alcuni sneak peek particolari come dei pesciolini Dei fasci di luce particolari Troverete proprio questa scatola misteriosa qua Cosa contiene questa scatola misteriosa? La andremo subito a sbloccare assieme 3, 2, 1 Contiene una vite Bene ci sono degli oggetti espansioni in più che vi vengono dati tutti i giorni Se avete queste determinate cose Quindi se avete la città ricordatevi tutti i giorni di andare a passare a prendere questa scatola misteriosa In modo tale che se avete qualcosa che magari siete lì che non sapete che fare Scatola misteriosa vi danno un oggetto espansione che può essere utile Perché un oggetto espansione ogni giorno si accumulano e poi magari può essere utile perché ti fa effettivamente a sbloccare il silo I potenziamenti del silo e tutte queste cose qua Mi avete chiesto in molti come si fa ad ottenere gli aiutanti C'è anche la possibilità di ottenerli gratuitamente Vi farò comunque un video a riguardo Quindi mi raccomando restate sintonizzati perché ci saranno un sacco di video carucci riguardo a questo argomento Guardiamo un po' la barca cosa ci dice Ci dice di consegnare un po' di grano turco, un po' di canne da zucchero Bene, andiamo a fare un po' di shopping qua magari all'interno del nostro fantastico giornalino Perché ci danno 5 di grano turco a 36 che non è assolutamente male Guardiamo se riusciamo a trovare qualcos'altro Un po' di grano turco di qua si trova Ci servirebbero le stack di pannocchie da 10 da andare a scioppazzare Ma a quanto pare non è così presente il grano turco all'interno di questo fantastico mondo di ai dei Andiamo a prendere un altro mielino perché non so se lo sapete vi ho fatto anche un video a riguardo Tutto quello che c'è da sapere riguardo al sistema api Lo andate a trovare sul canale quindi se ve lo siete persi andatelo a recuperare Perché è molto 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 caruccio Qua gli animali stanno tutti abbastanza affamati Approfitterei allora della situazione per andare a mettere un po' di cibo in preparazione Per questi animaletti in modo tale che stiano anche loro abbastanza nutriti Vi ricordo che quelli che mi hanno chiesto sono andato a prendere anche l'animale del rifugio Come l'ho chiamato? Molto molto bene L'ho chiamato in un nome particolare Si chiama Elebroccolo Lo so un nome abbastanza particolare da dare a un elefante Ma i nostri elefanti sono particolari quindi hey eccolo qua Andiamo un attimo da Greg a andare a vedere cosa c'ha di bello nella sua bancherella Un po' di grano turco Greg ragazzi non badiamo a spesi Intanto ci sono sempre gli sconti quindi ci rientriamo in un modo o nell'altro Abbiamo giusto un gelato alla fragola da fare Non so se riusciamo a prepararlo questo gelato alla fragola No non riusciamo a prepararlo Sarà per un'altra volta Il video termina qua spero che vi siete divertiti Spero che vi sia piaciuto Soprattutto era un video che volevo fare già da un po' di tempo L'avevo registrato in live un po' di tempo fa Quindi spero che vi sia stato utile E soprattutto fatemi sapere qua sotto nei commenti Se sapevate dell'esistenza di questa scatola Perché io personalmente non ero a conoscenza In quanto quando entri all'interno del gioco non ti dicono niente di questa scatola Mi raccomando lascia un like Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto Condividi questo video con i tuoi amici Che magari Soprattutto con l'esistenza di questa scatola Noi ci vediamo domani alle 14 E oggi pomeriggio in live per il grande ritorno Quindi mi trovate oggi esattamente alle ore All'incirca 17-17.30 In live qua sul mio profilo youtube Ciao belli Noi ci vediamo